Il vasto mondo del digitale è riassunto nel titolo molto efficace dell'ultimo libro Siamo tutti influencer del giornalista abruzzese, uno dei massimi esperti italiani di marketing e comunicazione, Giampaolo Coletti. Termini come blockchain, metaverso, creator economy e potere editoriale diffuso sono ormai entrati prepotentemente nel nostro quotidiano ed è necessario sempre più dotarsi di una mappa per scegliere le giuste rotte da seguire. Siamo tutti influencer racconta la nuova era conversazionale, la rete non è più fatta dei social media che abbiamo imparato a conoscere negli anni, quelli diciamo delle platee generaliste, i primi esperimenti con Facebook. Oggi i social diventano molto più verticali, tematici e quindi parliamo non più di narrazione ma di co-creazione. Nel libro Siamo tutti influencer racconto tutto quello che sta avvenendo nella nuova era di internet e alcune esperienze innovative che arrivano un po' da ogni parte del mondo. Una tra tutte è Roblox che intercetta la generazione alfa, i giovanissimi consumatori del domani che non soltanto partecipano in queste chat ma co-creano videogiochi, esperienze immersive e quindi in qualche modo partecipano attivamente. Ecco questa è la nuova era di internet.